Arriva una seconda medaglia d'oro per quanto riguarda gli europei di atletica leggera di Berlino, capitale della Germania. L'Italia dunque conquista la seconda medaglia d'oro, in particolare di ciò si è reso protagonista il buon Johannes Chiappinelli. Nella gara dei 3.000 siepi vinta da francesi Maldin-Meclissi-Benabad. Medaglia d'argento invece per quanto riguarda il signor Fernando, carro di nazionalità, ricordo a tutti, spagnola. Dunque l'Italia si aggiudica un'altra medaglia, quella non d'oro, non quella di argento ma quella di bronzo. È pur sempre una medaglia, anche se di bronzo, di cui noi italiani dobbiamo comunque essere più che contenti e più che soddisfatti. Dunque anche in questi europei di atletica leggera a Berlino l'Italia ha, dalla sua, il fatto di avere personaggi di bravura grande che a livello sportivo stanno facendo la differenza e lo sa bene il buon Chiappinelli che in questi 3.000 siepi si è aggiudicato un terzo posto andando in maniera brava e talentuosa a compiere qualcosa di grande. Un salutone, il video termina qua e al prossimo da Narratore Italiano. Grazie.